Buonasera a tutti, ringrazio l'uomo della lista Unione e Impegno per il Sano del Serno, tutti voi che ci onorate con la vostra presenza. Nella scorsa tornata elettorale ho partecipato alla competizione come candidato nella lista di Nicoletta Festa, lista che era alternativa a quella del Dottor Di Santo. È stata una bella esperienza perché mi ha permesso il confronto con molte persone e perché mi ha permesso di affrontare tematiche che prima conoscevo solo marginalmente, in maniera più approfondita e consapevole. Questo mi ha spinto a ripetere le esperienze e a presentarmi con gli amici della lista Unione e Impegno per Sano del Serno. Lista composta con tutti i volti nuovi della politica di Sano del Serno, tutti con la voglia, il coraggio, l'entusiasmo e l'audacia di interprendere questo percorso, al fine di dare un'impronta nuova, giovane e cennina alla politica amministrativa di Sano Renzello. Credo sia doveroso rispondere alla domanda che molti di voi si sono posti e che molti mi hanno fatto. Perché hai scelto di candidarti con la lista Unione e Impegno per Sano Renzello con capolista Antimo Lavonia? E allora ecco la risposta. Credo in questo gruppo di giovani laurentini che ha capacità, competenze ed esperienza in settori diversi e sono sicuro se ne avrà l'opportunità ed avrà, cari amici ed amici laurentini, perché vinceremo queste elezioni. Lavorerà per assicurare un'amministrazione all'altezza delle vostre aspettative. E poi abbiamo a capolista un laurentino doc, onesto, con una notevole esperienza politica ed amministrativa. Il dottor Antimo Lavonia, che sarà la nostra guida, che ci insegnerà le modalità più appropriate per amministrare Sano Renzello. Attraverso un lavoro che sarà svolto da tutto il gruppo, gruppo che è pronto a far valere le proprie idee e soprattutto a rispettare la volontà degli elettori. Consentitemi un altro distinto. Mi sono allontanato dagli amici con cui sono stato impegnato nella scorsa campagna elettorale, in quanto non ho approvato e non approvo il loro modo di operare basato essenzialmente sui ricorsi, sul no comunque. Sono altresì consapevole delle difficoltà e dell'onoroso impegno a cui si va incontro, se si vuole contribuire alla crescita di Sano Renzello, ma con la nostra squadra ce la faremo. Sì, ce la faremo perché siamo una grande famiglia. Sono consapevolmente contento di intraprendere questo percorso con gli amici della lista numero 3 con i quali si è instaurata un'intesa perfetta. È soprattutto una convergenza sui principi fondamentali a cui vogliamo attenerci per guidare al meglio Sano Renzello, da martedì prossimo. Vogliamo per questo una fattiva partecipazione dei cittadini alla vita di Sano Renzello, parlando con i cittadini, ascoltando le loro richieste e condividendo nel contempo le loro proposte, aiutando quelli in difficoltà. Questo penso debba essere il punto di partenza per la gestione di un Paese come Sano Renzello. Ed è necessario quindi attivare tutti gli strumenti di partecipazione previsti dalle normative e dallo Statuto Comunale, attraverso consigli comunali, assemblee e quant'altro. In questa ottica bisogna tutelare e salvaguardare le associazioni esistenti, stimolare e dare impulso all'analizzazione di nuove aggregazioni che sappiano interagire e collaborare con quelle esistenti, arricchendo la vita del Paese di nuovi eventi culturali, creando così nuove opportunità per ritrovarsi insieme. Bisogna garantire una corretta informazione per rendere idotti e consapevoli i cittadini sulle azioni degli amministratori che loro hanno eletti. Bisogna riaffermare la specificità territoriale del Paese, del comprensorio, rilanciare lo sviluppo economico e culturale di Sano Renzello. Valorizzare ed incentivare ogni iniziativa volta alla produttività e alla imprenditorialità, stimolando e sostenendo con servizi reali, soprattutto le proposte di imprenditorialità giovanile, suggerendo e cogliendo le opportunità di agevolazione di legge, integrandole con altre iniziative di promozione amministrativa. Bisogna incentivare i settori innovativi con l'attivazione di corsi di formazione professionale e valorizzando quelli esistenti, a modellare le infrastrutture e strutture produttive nel settore agricolo e zoetecnico, valorizzando le produzioni vinicole e oleare, con l'adeguamento alle esigenze di mercato, quali marchi di origine, genuinità dei prodotti e confezionamento, stimolando altresì ogni forma possibile di collaborazione. Bisogna inoltre razionalizzare il sistema di aria urbano, realizzare spazi attrezzati per l'infanzia, adeguare e potenziali servizi comunali. Bisogna valorizzare le risorse paesaggistiche, ambientali e storiche del territorio attraverso ogni possibile strumento promozionale, atteso che lo strumento urbanistico di indirizzo uguale il piano territoriale di coordinamento provinciale ritiene che lo sviluppo sostenibile della nostra provincia è quello turistico ambientale. Un altro settore da tenere presente è il settore dei lavori pubblici. A proposito di questo vorrei fare una riflessione con tutti voi, soprattutto per evidenziare l'importanza del ruolo che rivestono gli amministratori in questo settore. Nei comizi dei giorni scorsi il candidato a sindaco della lista numero 2, Ervio Sagnella, ha parlato di un argomento che lui ha definito un grosso problema ed aveva sicuramente ragione, ma forse c'è qualcosa di più grave che bisogna informare i cittadini. Il decreto legislativo 163 del 2006, che regola i contratti per l'affidamento dei lavori pubblici, offre alle stazioni appaltanti per la giudicazione dei lavori come modalità di scelta del contraente, oltre alle classiche procedure, cioè quella della licitazione privata del massimo ripasso offre anche un'offerta economicamente più vantaggiosa. Questa modalità di scelta del contraente si pone come scopo principale quello di evitare la giudicazione a ditte che offrono ripassi esagerati, a scapino della qualità dei lavori. Ma la cosa fondamentale è che permette alle tutte partecipanti di diminuire il ripasso e in alternativa di offrire un progetto migliorativo. Questa nuova procedura favorisce sia l'impresa, perché non fornisce più un taglio netto sui prezzi, ma fornisce un maggiore lavoro, quindi una quantità maggiore di lavoro. Quindi anche per lei c'è una notevole differenza. E va bene anche a lette, in quanto oltre al progetto esecutivo riceve una quantità di lavoro in più o una maggiore qualità dei lavori nel progetto esecutivo. Detto questo le amministrazioni quindi hanno nelle loro mani un'arma decisiva per favorire gli interessi della collettività, redigendo un bando con criteri minuziosi ed attribuendo valori più alti a miglioramenti decisivi, orientati a soddisfare le esigenze dei cittadini. Tutto questo, detto così, sembrerebbe cosa di poco conto, ma non è così e vi spiego i motivi. Nel nostro Paese in quest'ultimo periodo sono stati pubblicati alcuni bambini arendi opere pubbliche, tra cui quello relativo alla realizzazione della rete fognaria per un importo di circa 3 milioni e 200 mila euro. io mi occupo di questo in poche parole, quindi per motivi di lavoro leggo molti bambini ed ho notato subito la differenza con altri bambini pubblicati da diverse amministrazioni. Per esempio ho letto il bando del comune di Petruro il Pino, un Paese in provincia di Avellino, di 700 abitanti. Inerente ai lavori per la costruzione di una scuola, enunciata tra i criteri dell'offerta, la realizzazione dell'impianto di riscaldamento e l'adeguamento dell'edificio alle norme per il risparmio energetico. Per esempio ho letto il bando del comune di Buon Abitacolo, in provincia di Salerno. Riguardante la sistemazione idraulico ambientale di un'asta torrentizia, indicava come criteri a cui le imprese, le ditte partecipanti si dovevano riferire per la presentazione del progetto migliorativo l'ampliamento dell'opera. Invece il bando pubblicato dall'amministrazione di Salorenzello per la realizzazione della rete fognaria indicava fra i soli due criteri a cui attenersi quello del pregio estetico. Ora, quello che io purtroppo non riesco a capire, non era più necessario invece, non era doveroso per tutti i cittadini di Salorenzello inserire tra quei criteri, quello di ampliare la rete fognaria o coprire più territorio invece di renderla più bella. Anche perché non me ne vogliate, ma io non riesco a capire cosa si possa fare per migliorare il pregio estetico di una fognatura, un'opera che viaggia sotto terra. Forse, non lo so, forse devono mettere dei giusini particolari, non lo so, non ho idea. Io a questo punto però penso se c'è la possibilità di... non c'è la possibilità. Ok, scusatemi. Forse io ho una spiegazione a tutto questo, ve la sto dando insomma, e credo che l'amministrazione avrà considerato il depuratore sequestrato, quindi non funziona. Quest'opera non funzionerà, almeno la facciamo bella, quindi se viene qualcuno troverà una fognatura bella. Tornando a riflettere, pensate che un progetto migliorativo su un importo di 3 milioni e 200 mila euro, tradotto in cifre, poteva essere anche di un altro milione di euro e considerate che un metro lineare di fognatura, e questo non lo dico io, lo dico nei prezzi della regione Campania, costa 100 euro al metro lineare circa, ovviamente, dipende dalle condizioni. Tutto questo significa che attraverso un bando diverso e più ovulato, potevano anche essere realizzati molti metri di fognatura in più, o un sistema diverso per risolvere il problema del depuratore. Dico penso non si faranno, dico questo perché non conosco il progetto che ha presentato la ditta appaltatrice, la quale però spero con tutto il cuore si sia confusa nella lettura del bando ed abbia offerto un ampliamento alla rete fognaria, o quanto di più importante ci sia per il benessere del Paese. Poi aggiungo che nelle scorse sere il candidato consigliere della lista numero 2, Giovanni Meglio, ha elencato la spesa per la manutenzione delle strade comunali, valutando la giustamente o non come irrisoria, ma io aggiungo di più, che in comuni un po' più efficienti del nostro, la manutenzione delle strade comunali, come ormai di tutte le opere pubbliche, è a costo zero, anche per periodi molto lunghi, in quanto è a carico della ditta vincitrice della gara, perché è previsto come criterio del bando di indizione della gara stessa. Ovviamente, caro Dottore Di Santo, quanto si stipulano i contratti di manutenzione? Come tu hai detto l'altra sera, non sono contratti personali, ma stipulati come rappresentanti dell'ente comunale, quindi quando viene meno la persona che lo ha stipulato, riferendomi all'area del pulso, comunque chi rappresenta l'ente deve rispettare obblighi e diritti che ne derivano per renderla più semplice. Non credo, caro Dottore, che se lei succede ad un altro medico in un nuovo reparto, abbandone i malati del reparto per curare solo quelli subentrati dopo la sua nonna. Inoltre, l'altra sera in questa piazza, Dottore, lei ha asserito che tutti i lavori iniziati durante la sua amministrazione sono stati iniziati e completati. Allora lei che parla di trasparenza, le chiediamo come mai? I lavori di recupero e restauro dell'ex comando dei carmelitani, aggiudicati in via definitiva con determina numero 151 del 3.8.2010 del servizio tecnico malattentivo, ancora non sono stati avviati. Invece, i lavori per l'analizzazione della fognatura, aggiudicati in tempi più ricetti, sono già stati avviati, anche se c'è un ricorso in atto, accollandosi l'amministrazione il rischio di pagare un amore in caso di esito positivo del ricorso. E parliamo di una somma di 320.000 euro perché l'ente deve pagare il 10% dell'importo, altro che in caso Palumbo. Concludo il mio intervento dicendo che mi occupo anche un po' di progettazione e fra le tante offerte in cui ho partecipato, insieme ad altri tecnici, ovviamente ho partecipato anche ad una gara a San Lorenzerro, le strade comunali. Lavori che sono stati appartati da poco e tra l'altro, tra le altre cose che abbiamo offerto, abbiamo offerto la pubblica illuminazione sulla strada Serre-Sandonato, cioè praticamente davanti a casa tua, Elvio e via Picone, perché credevamo fossero importanti quelle zone per la sicurezza dei cittadini. La nostra offerta è arrivata terza. Spero però, non è questo il problema ovviamente, io spero che all'ultimazione dei lavori, cioè a breve, in quella strada ci sarà l'illuminazione, perché se no dovete sapere tutti che qualcuno o l'amministrazione non ha voluto quella linea della pubblica illuminazione nemmeno regalata, perché noi la regalavamo. Questo era solo per riflettere con tutti voi e far capire, secondo me, che per dare di più a un Paese non sempre sono necessarie solo risorse finanziarie, ma che è importante la conoscenza, l'impegno e la capacità di sfruttare le opportunità legislative che ci vengono fornite. Per questo motivo io vi dico votate la lista numero 3, la lista Unione e impegno per San Lorenzello, con candidato al sindaco il dottor Artimo Laogna. Grazie.